Buonasera e benvenuti a Cento Sport Magazine, puntata speciale perché lo vedete innanzitutto ma anche il padrone di casa Fabrizio Gaglianiello, ma ovviamente cercherò e cercheremo di non far sentire la sua assenza e poi perché parleremo di due partite che hanno detto cose davvero rilevanti, la Virtus Francavile, quindi inizieremo a parlare di Serie C che ha giocato in casa contro la Bibonese, una partita che ha lasciato un po' la mano in bocca ai tifosi, la dirigenza Biancaazzurra e poi nella seconda parte ci concentreremo sul campionato di eccellenza, anche qui in Biancaazzurra hanno avuto buone notizie perché sono riusciti ad allungare il distacco sulla terza formazione del girone di eccellenza, ossia il Barletta, però non anticipiamo troppo e iniziamo a presentare gli ospiti che ci faranno compagnia quest'oggi, due grandi amici iniziando da Gianfranco Mancino, consulente di mercato e direttore sportivo, ben ritrovato. Buonasera a te Andrea, buonasera ai telespettatori. E il nostro altro amico è Giancarlo Enrico, ben ritrovato. Ex dirigente del Brindisi, un opinionista di calcio, grande conoscitore di calcio. Ti ringrazio, comunque buonasera a tutti. Buonasera a voi, allora se siete d'accordo inizierei a vedere subito il quadro di quello che è la giornata per entrare subito nel vivo degli argomenti perché è stata una giornata interessante che ha detto molto in termini di risultato e non soltanto in chiave Virtus. Questa è la grafica che vedete in sovraimpressione, iniziamo da Catania Potenza, questo è un risultato sicuramente importante. 1-1 tra le due formazioni. Cavese che vince 2-0 in casa col Siracusa. Poi ovviamente c'è anche il risultato di Matera-Trapani, come sapete partita disputata a tavolino ovviamente perché non si gioca più, il Matera non scende più in campo, la formazione Lucana. Rieti che vince 1-0 in casa con la Viterbese e in questo derby laziale. Sicula-Leonzio, Paganese 1-1, così come la Virtus Francavilla che ha pareggiato in casa Alpanuzzi, dicevo prima, con la mano in bocca con la Vibonese. E poi Biceglie che vince per 1-0 in casa col Catanzaro, risultato forse difficile da pronosticare questo qui. Casertana che pareggia 0-0 sullo di Vestabbia nel derby campano, una partita sentitissima. E poi la Regina che nei minuti finali si fa raggiungere dal rende 1-1. Riposava in questa giornata il Monopoli. Per questa classifica ovviamente, dopo questi risultati sapete che purtroppo la classifica ancora non è del tutto allineata, sia perché ogni giornata c'è una squadra che riposa, ma soprattutto perché altre formazioni come la Viterbese hanno partite da recuperare. La Juve Stabia è sempre saldamente in testa, 65 punti, Trapani a 58, Catanzaro 54, 51 per il Catania e 42 per il Monopoli, 40 per la Casertana, 39 per il Potenza, Rende 39, Vibonese 37, Viterbese 36 e vedete con delle partite da recuperare, però si è già inserita nel gruppo che parteciperà nella fase post-season ai play-off e poi Cavese 35 insieme alla Regina, Regina che come vedete è gravata da un meno 8 importante in classifica e poi Virtus Francavilla 34, 32 per la Sicurale Onze, Siracusa 28, 26 per il Biceglie, 25 per il Riete e staccatissima ormai la Paganese, ovviamente in Matera manca da classifica perché è stata esclusa dal campionato. Allora chiedo al nostro Dario Spagnolo che cura la regia quest'oggi di farci vedere ancora i risultati per commentarli insieme ai nostri ospiti, dicevamo ci sono stati dei risultati a sorpresa che probabilmente non ci aspettavamo, iniziamo da Gianfranco, un parere su questa giornata e cosa ti ha lasciato un po' più sballordito nei risultati? Volevo solo sapere se la classifica è aggiornata a oggi perché la Viterbese ha pareggiato 0-0 con il Monopoli. Credo sia aggiornata ad oggi, se lo dico subito. Niente, sinceramente mi è piaciuto tantissimo il parreggio esterno del Potenza, sinceramente, che non so se tu ricordi, all'inizio stagione mi avete chiesto quale sarebbe stata la rivelazione la sorpresa di quest'anno, io mi sono espresso e ho detto il Potenza. Poi va elogiato tantissimo il Biceglie che con una prestazione maiuscola, con un euro goal di un certo vittorio triatico, un giocatore che secondo me se sta bene fisicamente potrebbe giocare in qualsiasi squadra importante. Poteva essere ancora utile secondo te alla Virtus Francavilla? Beh, fosse stato io l'avrei preso nella disgrazia della Matera dove ha dovuto cedere tutti i giocatori. La Virtus quest'anno non lo sta seguendo, però sinceramente non mi aspettavo un pareggio contro la Vibonese, dove ci ricordiamo che all'andata fu il coso che diede il cambio dell'allenatore, no? Pensavo che ci doveva essere una rivincita... Ti aspettavi una vendetta sportiva? Ecco, una vendetta sportiva, non c'è stato. Il pareggio della Regina non me l'aspettavo con il Rende, perché la società Regina ha fatto un investimento di un certo livello, pensavo che potesse vincere la partita. E poi la capolista Juve Stabia è andata a prendere un punto importantissimo in un derby contro la Casertana che va sempre più su. Il Trapani non lo possiamo dire perché ha vinto la partita a tavolino. È ingiudicabile. Difficoltà della Juve Stabia, secondo me, che nascevano più della, chiedo anche conferma a Giancarlo, dalla forza della Casertana che resta sicuramente al di là del campionato, no? Anonimo, magari ci aspettavamo qualcosa in più. La difficoltà arriva più che altro dalla difficoltà di affrontare in un derby così sentito magari una partita complicata. Un punto che vedi in chiave positiva, Giancarlo? Sì, assolutamente sì, perché la Casertana veniva data anche da noi stessi come una squadra che poteva tranquillamente svolgere un ruolo di prestigio, di assoluto primato, ma con un campionato che è iniziato piuttosto male, è chiaro che ora ogni cosa diventa più difficile. Per giudicare la giornata io penso che mi hanno colpito i risultati negativi di alcune squadre. Reggina, Catanzaro... Se possiamo vederla in grafica, chiedo il nostro Dario Spagnolo anche a cuore risultati. Grazie. Per quanto stia recuperando, proprio perché recupera partite, però c'è da dire che sta facendo una fatica estrema per colpa, a mio avviso, della scelta cervellotica del Presidente, perché è chiaro che ora dovendo recuperare tutto quel tempo perso, giocare ogni tre giorni, quattro giorni non è semplice, quindi voglio dire che sta facendo una fatica immensa e riuscire a risalire non è semplice, lo sta facendo, però se dovesse entrare nella griglia per gli off potrebbe essere la mina vagante, però potrebbe anche arrivare un po' scoppiata, quindi bisognerà vedere il lavoro di Calabro se andrà a colpire anche, andrà a punteggiare un po' la preparazione atletica. In ultimo, sulla Regina, ho visto la partita a lunedì pomeriggio in televisione e mi sembra di aver visto la fotocopia della partita del Viesto Sfrancavilla, andato in vantaggio al termine del primo tempo, nel secondo tempo è stata una lenta inesorabile presa di possesso del campo e del pallone, del rende e all'ultima azione sono riusciti a pareggiare Un gol anche particolare, non sguardendo un po' la fascia sinistra Sì, perché c'è stato un crosso, una spizzicata di testa che ha mandato il pallone sulla parte opposta e il giocatore ha tirato, però il rende meritava, nel senso che ha giocato un secondo tempo assolutamente da padrone del campo e quindi la responsabilità è della Regina che tutti quegli acquisti, tutti quei grossi nomi, ma sembra che in campo come sempre diciamo non entrano i nomi ma entrano gli atleti Il Benotto secondo voi è stato un'amazzata dal punto di vista dell'umore e magari ha fatto perdere un po' di convinzione anche a questi giocatori importanti e formidabili della Regina? Beh, probabilmente sì, però è anche vero che chi entra in campo soprattutto sono giocatori che sono molto, la grande maggioranza sono appena arrivati e quindi sono dei professionisti che pensano di fare del loro, pensano alla propria prestazione e la società che sicuramente si sente gravata di questo menotto che fa ridimensionare un po' i progetti iniziali. Allora, prima di passare alla Virtus Francavilla, vediamo ancora la classifica, per vedere a Genova volevo aggiungere una cosa sulla Regina, giusto come diceva Giancarlo, però io penso che questa squadra fatta diciamo al mercato di riparazione, questa squadra secondo me, per quello che si è visto il primo tempo dell'ultima partita che hanno giocato, questa è una squadra che potrebbe arrivare in fondo nei play-off perché ha un potenziale importante, secondo me potrebbe fare come ha fatto l'anno scorso il Cosenza perché il Cosenza aveva una grossa squadra però ha faticato per arrivare in fondo, io la vedo che è una squadra che arriverà ai play-off e punterà tutto su play-off nazionali. E allora, vedremo se sarà effettivamente così, se ci sarà questa similitudine con il, soprattutto nel cammino, con il Cosenza che l'anno scorso ha fatto sicuramente un'impresa L'anno scorso il Cosenza l'ha svolto alla dia del Francavilla. È vero, sono d'accordo, invece a Brindisi fece una partita incredibile, una vittoria sensazionale da lì prese poi il via, no? La ricordo, fu una partita che mi lascio il momento perché disse questa qui non sembra una squadra di Serie C, giocò una partita pazzesca, veramente pazzesca e c'era, all'epoca c'era ancora Perez, che lo guardavo con un particolare occhio di riguardo. Non lo fece benissimo, però... No, no, però mi ricordo che se non sbaglio si procurò il rigore. Segnò il calcio di rigore. Segnò il calcio di rigore, però mi ricordo che mi colpì. Sentiare di casa. Però, da lì forse anche di Perez si sbagliò. Io la vidi con piacere perché c'era Stefano in tribuna, finché era, e c'erano alcuni di... E comunque mi colpì tantissimo, mi disse, mamma mia che suara, e poi ebbe quel crescendo. Fece una bella impressione francamente a tutti. Ma poi, tornando alla regina, io penso che i giocatori che c'è alla regina sono abituati a lottare a questi livelli. Quindi, andando a fare playoff, io penso che ce la possono fare. La squadra che mi sta deludendo è il Catania. Forse vanno presi dirigenti di categoria, non i dirigenti, dalla Serie A a portarli in Lega Pro. Perché la Lega Pro è diversa. Sinceramente, non... Io avrei preso un allenatore di categoria. Di quelli vincenti. Non so se Giancarlo vuole aggiungere qualcosa sul Catania. Anche io, nella mia analisi precedente, effettivamente mi è sfuggito il Catania, perché è una grossa delusione, ogni anno, ormai da quando milita in Serie C, si parla e si presenta come quella che dovrebbe determinare il punto di riferimento, ma spesso questo non succede. Ed è un peccato, perché il bacino d'utenza, lo stadio, la storia di questa società meriterebbe risultati diversi, probabilmente come dice Gianfranco, i campionati si vincono con i giocatori di categoria, con gli allenatori di categoria, come fece probabilmente, se non ricordo male, il Napoli, che vinse i campionati con i giocatori che erano stabilmente in quella categoria, con qualche punta di diamante che nobilitava tutto il gruppo, però sempre contando su quei giocatori che erano abituati a giocare su certi campi, in certi climi. Come sta facendo anche un po' il Bari, in una categoria diversa, però... E' vero, c'è un Brienza che uno dice, ma come fa a giocare Brienza? Non solo Brienza, ma per dire, ce ne sono tanti. Giusto lasciarne uno, due e tre, come dicevo. Devo essere sincero Giancarlo, Andrea, io seguo molto il Bari, sia dal vivo che in televisione, il Bari come sta adesso, con un altro allenatore di categoria, può stravincere tranquillamente la Lega. Ah, vedremo se l'anno prossimo magari riuscirà a confermare, o vorrà più che altro, confermare l'ossatura magari, no? L'ossatura sì, però io penso la guida tecnica sicuramente... Tu sei uno di quelli che non va d'accordissimo con la guida tecnica, perché sappiamo... I sultati parlano chiaro, magari dal punto di vista del gioco, però no? E' facile vincere quando hai dei fuori classi in campo che risolvono le partite difficili, però a livello di gioco non c'è quella squadra che ha il carammato che doveva distruggere tutto. Ti aspettavi qualcosa? Qualcosa in più, sì. Va bene, se siete d'accordo ci vediamo il servizio realizzato da Fabrizio Caglianiello sul pareggio al Fanuzzi della Virtus Francavilla con la Vibonese, così poi magari lo commentiamo insieme. Qualche novità nella formazione della Virtus, Nordi tra i pali in difesa Tiritiello, Pino e Caporale. Centrocampo che vede ancora una volta puntoriere sulla destra con un Zella a sinistra. Vrodliac, Folo Ruscio e Zenuni in cabina di regia, l'attacco affidato come sempre invece a Partipilo e Sarau. Veniamo alla partita, al diciassettesimo ci prova Partipilo, Para, Zaccagno. Al diciottesimo c'è il gol della Virtus, calcio d'angolo di Nunzella, Folo Ruscio imperioso, il suo stacco di testa a Francavilla 1, Vibonese 0. La gara sembra tutta in discesa, a questo punto per la formazione di Troscini, quinto gol in campionato per Michael Folo Ruscio. Al ventesimo Sarau potrebbe raddoppiare ma non riesce a trovare il gol da posizione favorevole. Con il montaggio di Alessandro Bardama passiamo alla ripresa, la Vibonese resta in dieci uomini dopo appena dodici minuti espulso Camilleri. Non a dubbi il direttore di gara estrae il rosso, Vibonese in dieci uomini. Girandola di cambi nella Vibonese dentro Altobello e Collodel per Donnarumma e prezioso applauditissimo Lex al ventunesimo clamoroso palo di Partipilo per il Francavilla. Sembra davvero stregata la porta della Vibonese. Girandola di cambi anche per Troscini e forse qui si rompe qualcosa. Dentro Pastore per Puntoriere, dentro poi Albertini per Zenuni e soprattutto il cambio di Corrado con Partipilo. lo lascia un po' perplessi perché Corrado dimostra di essere davvero in ritardo di preparazione. Partipilo magari era un giocatore che poteva tenere maggiormente palla. E proprio su una ripartenza la Vibonese trova il clamoroso pareggio a tempo abbondantemente caduto in uno dei pochissimi tiri in porta di tutta la partita. A segnare scacca Barozzi che batte Nordi. Beffa atroce per la formazione bianco-azzurra. Finisce così Francavilla 1, Vibonese 1. Allora Giancarlo, tu eri al Fanuzzi, la partita non è stata esaltante, però la Virtus era arrivata nei minuti di recupero con un vantaggio che doveva difendere a denti stretti. Poi abbiamo visto anche il gol, l'abbiamo visto anche due volte nelle immagini. Una disattenzione che è costata poi caro ai bianco-azzurri. Sì, una disattenzione, ma poi soprattutto un atteggiamento che, come dicevo prima della partita della regina, che è stato via via piuttosto arrendevole. Cioè, Francavilla doveva assolutamente essere maggiormente cinico e aveva la possibilità, perché per buona parte, ora non ti so definire per quanto tempo, ma per buona parte della partita a condurlo è stato Francavilla. La Vibonese ha fatto veramente poco, si è affacciato quasi mai davanti al portiere. E quindi, avendo questo totale possesso della partita e avendo avuto due, tre occasioni, ha preso anche un palo, non ricordo se con Sarau con un partipilo, poteva assolutamente, doveva congelare quella partita. Sul 2-0 sarebbe totalmente finita, perché la Vibonese non è che mostrava questa reazione. Giusto nei minuti finali, proprio con i cambi che ci sono stati, ora non voglio fare un'analisi tecnica legata ai cambi, perché magari i cambi sono stanchi, anche dettagli dal fatto che magari partipilo forse non si sentiva più nelle condizioni di continuare, stanco o quant'altro. Questo non lo sappiamo. Però i cambi che facevano capire che in ogni caso, anche se è entrato Corrado al posto di partipilo, un attaccante per un attaccante, però non era la stessa cosa, nel senso che partipilo ha sempre quella caratteristica di poter far salire la squadra, avere l'occasione, se si presentava l'occasione, poteva anche sfruttarla. Invece Corrado effettivamente ci è sembrato un po' avulso, ora non so se per scarsità di preparazione o perché ancora deve entrare il meccanismo di gioco. E soprattutto questo atteggiamento non totalmente convincente. Io penso che a quel punto, se la squadra avesse capito che non riusciva più a poter portare a casa il doppio vantaggio, avrebbe forse dovuto fare qualcosa in più in difesa, un po' più di determinazione. Invece con molta calma si andava avanti, si faceva, si cercava azione, e la Vibonese buttava dei palloni avanti. E su uno, come si è visto in le immagini, su uno di questi cross, anche piuttosto, secondo me, innocui. Era gestibile perché anche il difensore della Virtus si è fatto anticipare da Sacca Barossi, che ha avuto la bravura, ma non è che ci volesse anche molto, perché erano veramente pochi passi dal portiere. E quindi questa è un'azione, questa è la seconda occasione lampante per poter avere il raddoppio. Quindi lascia veramente l'amaro in bocca. Tanto è vero che alla conclusione della partita la contestazione dei tifosi che non hanno gradito l'avvicinarsi della squadra per il saluto di rito, io penso che non fosse una contestazione nei confronti della squadra quanto la delusione. Forza rabbia per la partita. Perché nessuno di noi poteva pensare che quella partita sarebbe finita uno a uno. Quando invece è successo la delusione è stata tanta da parte di tutti e quindi quella contestazione si giustifica, a mio avviso, così. Ed è un peccato perché facciamo sempre il suo discorso. La squadra potrebbe fare qualcosa di più e soprattutto la dirigenza penso che meriterebbe qualcosa di più. Gianfranco, non so se vuoi dire qualcosa nello specifico della partita sui temi trattati da Gianfranco. No, sulla partita posso dire soltanto una cosa, che al di là c'è stato l'episodio alla sfortuna, però voglio dire che alla fine il Francavilla è ben messo in classifica. Sta per raggiungere un traguardo importantissimo che è la permanenza in Lega Pro. Io penso che questa squadra darà una prova importantissima tra due settimane contro il Trapani. Farà una partita bellissima perché con le grosse squadre c'è un'espressione di gioco importante. Secondo te la rincorsa ai play-off, quanto è possibile, se è vicina o no? Beh, il play-off è la portata di tutti, però l'obiettivo è quanto prima arrivare alla salvezza, poi dopo no, pensare partita dopo partita. Però criticare la Virtus non ci sta proprio, perché sta facendo un ottimo campionato. Purtroppo è stato pure sfortunato perché se avesse fatto il 2-0, alla fine, poi nel calcio moderno le partite finiscono il 96-97. Tu puoi stare al 90... Anche senza marra? Al 90 stai vincendo 1-0, al 96 ti trovi che stai perdendo 2-1. Voglio dire, ci può pure stare, però io penso che la partita, non la partita della riscossa, la partita che darà un segnale importante se questa squadra può fare il play-off, sarà la partita con il Trapani in casa. Se posso dirti, alla termina della partita, ho avuto modo di parlare con, presuppongo, dei giornalisti della Vibonese, di Vibonese, che si lamentavano e erano rimasti colpiti dal fatto di aver visto il campo, così ridotto male, che ha messo nelle condizioni difficoltà i giocatori. Noi abbiamo spiegato che effettivamente è una difficoltà comune, perché dicevano che non abbiamo mai visto i giocatori avere tanta difficoltà nel controllare il pallone, spesso giustificava il modo di giocare della Vibonese con questi lanci, con questo tentativo quasi di non avere il pallone tra i piedi, ma di lanciarlo per poi sfruttare qualche occasione. Ora, questo non dobbiamo dimenticarlo, però, come spesso diciamo, il campo è brutto per l'uno e per l'altro. Poi vengono delle squadre che esprimono un ottimo gioco su quel terreno. Esatto. Quindi, io penso che sia una giustificazione che abbia un po' non tanta credibilità, ma non perché il campo non sia ridotto in condizioni pietose, ma quanto perché in ogni caso non ci sono tanti campi migliori di quello del Fanozzi. Ed è per questo che io stavo dicendo prima, il dispiacere, io non stavo criticando, non critico, non criticavo il Francavilla perché la ritengo una squadra con buone qualità. Certo però che forse dovrebbe, secondo il mio parere, avere anche un maggior convincimento, che non è dato soltanto dal fatto che se giochi con il Trapani, giocherai con il Trapani, con il Catania, ti vengono le forti motivazioni e fai una grossa partita, ma anche per dar soddisfazione a quei tifosi che da Francavilla vengono a Brindisi per vedere la propria squadra, dare in campo quel quid in più che ti permetta di poter avere la soddisfazione, di poter vedere una vittoria, di poter portare a casa tre punti, anche con delle prestazioni che siano un po' al di sopra del minimo sindacale, perché effettivamente la partita di domenica mi è sembrata una partita del minimo sindacale, portato il gollo, aveva un foluruccio, un bel colpo di testa sul cross, sul corner di Nancella, si è vista, poi si sono viste queste azioni in contropiede che potevano determinare una svolta nella partita con il raddoppio, però poi quando questo non è successo non si è vista una squadra che ha giocato con grossa determinazione e questo ci dicevamo tutti, queste sono le classiche partite che devi chiudere ma che non chiudi, che devi chiudere ma non chiudi e alla fine la Vibonese ha portato a casa un punto. Per quanto riguarda gli stimoli, prima ha centrato anche il punto Gianfranco, dicendo che non c'era da vendicare sportivamente la prestazione dell'andata, quindi magari il mancato appeal che poteva avere la Vibonese rispetto a una grande del campionato, poteva essere compensato da questa vendetta sportiva che purtroppo non c'è stata. Non c'è stata, è vero. Infatti questo si diceva, come si faceva, come si può pensare che questa squadra abbia vinto con Francavilla 5-0? Perché onestamente per quello che si è visto al Panuzzi sembrava inverosimile che quella squadra avessi potuto segnare. Era una squadra di 4-4. Però è pur vero che era un altro Francavilla. Secondo i giornalisti di Vibo Valencia c'era un altro campo che ha giustificato questo. Per scherzare e stemperare, ho una domanda per entrambi. Non so chi vuole rispondere per primo. Diamo una parola. Una parola a Gianfranco. Un giocatore, Folo Ruscio, che l'anno scorso molto spesso era al centro del dibattito anche in queste trasmissioni Centro Sport Magazine. Un giocatore da i grandi mezzi fisici, atletici, ma anche tecnici, perché fa vedere di avere una buona tecnica anche nei piedi. L'anno scorso aveva qualcosa da registrare dal punto di vista del carattere, della testa. Quest'anno non solo con il gol, ma anche con le prestazioni si sta dimostrando di essere un leader. Tanto che quando manca si sente la sua assenza. Gianfranco, non so che da dire. Prima di tutto va ringraziato Domenico Fracchiolla che ha preso questo calciatore ed è riuscito anche a farlo stare. Poi sinceramente quest'anno sta bene fisicamente, si vede proprio che... È maturato secondo te? Sì, ma a parte è maturato, è tornato il giocatore che giocava nella Lazio che era un leader, un giocatore importante. Io sinceramente non posso fare che elogiare questo ragazzo e gli auguro, perché gli auguro che ci sono tante squadre di categoria superiore che sono interessate a questo ragazzo che sinceramente merita per quello che sta facendo. Giancarlo, le sensazioni che io magari penso che un domani potremmo dire, noi che abbiamo visto il Francavilla-Fanuzzi, abbiamo visto Fonoruscio giocare a Brindisi perché la sensazione è che lui abbia la possibilità di fare anche un salto. Sì, grossi mezzi fisici, grossi, certamente come ogni atleta migliorabile da un punto di vista tecnico, però quest'anno rispetto all'anno scorso c'è già un elemento che forse dimentichiamo. Un anno in più su un ragazzo giovane fa tantissimo, un ragazzo che passa dalla primavera ad un campionato professionistico anche se di Serie C è un salto e spesso questi giocatori non ce ne diamo conto che sono dei giovani che dopo un anno hanno margini di miglioramento che è amplissimi, ben diverso da un giocatore ormai non dico affermato ma di 25-26 anni che può sempre migliorare ma ha margini più risicati. Mentre un ragazzo con quelle doti fisiche se ha la capacità di comprendere quanto sia importante l'allenamento, l'assidità e soprattutto la concentrazione e la capacità di fare le cose che vengono chieste dalla squadra e dal mister, i margini di miglioramento sono notevoli quindi probabilmente questo giocatore lo si potrà vedere anche in ambiti diversi. Una cosa che poi scusami, ritorno un po' indietro, non dimentichiamoci che la Vibonese era in dieci perché c'è stato un giocatore espulso, questo ci sfugge. Ne parleranno abbondantemente il tecnico da Vibonese che sentiremo tra poco di questo aspetto. Ora stavo pensando che mi sfuggiva qualcosa mentre commentavo e poi ho ricordato che tra i commenti finali era proprio quello che non soltanto la Vibonese avesse pareggiato, ma ha pareggiato con un uomo in meno. E questo è un aspetto che come ho detto tra poco sentiremo anche delle parole del tecnico della Vibonese. Torniamo però a parlare di questa partita, lo facciamo con la dichiarazione della conferenza stampa post partita di mister Trocini ovviamente amareggiato per il pareggio e per come soprattutto è arrivato in virtù del fatto anche che l'avversario ha segnato un'inferiorità numerica. Sentiamo cosa ha detto il tecnico. Arrabbiato no, amareggiato, un'enorme amarezza, sicuramente veramente un boccone difficile da digerire. Una partita che se fosse finita a mio avviso con tre gol di scarto non c'era nuda da ridire. Tante occasioni, un rigore clamoroso non dato. Veramente un peccato. sono due punti persi, persi malamente perché avevamo tutto per portarli a casa, abbiamo avuto palle per andare in vantaggio, per chiudere la partita nel secondo tempo e non siamo stati bravi certamente neanche furbi negli ultimi minuti. Mi avviso, negli ultimi minuti si è giocata a tamburello, loro buttavano la palla avanti e noi la ributtavamo avanti. Non siamo stati bravi a tenerla, a tenerla un attimino su. C'erano due strade, o tieni palla e fa salire la squadra o raddoppi, vai a fare il secondo gol e chiudi la partita. A noi non è riuscito né uno né l'altro. Sicuramente un po' di sfortuna, in passato si sono fatti i gol su situazioni anche molto più difficili. Adesso è un momento dove non siamo fortunatissimi, sicuramente i ragazzi sentono anche il peso di questa palla che non vuole entrare, però io ho parlato con Anthony, insomma, il bello del calcio è che cambia tutto così velocemente che si passa dal sereno alla tempesta e viceversa in maniera molto veloce. Sicuramente Anthony ha avuto due palla a tu per tu portiere uno è stato bravo secondo me portiere non è riuscito ad alzare l'abbastanza un'altra ha preso il palo negli ultimi minuti potevano essere due gol è una partita chiusa sicuramente lui è più amareggiato di noi sicuramente Anthony è molto bravo in questo però negli ultimi dieci minuti si buttava la palla avanti probabilmente Corrado ha la fisicità per tenere palla ma anche per spizzare qualche palla di testa e non dare il solo compito a Sarau non solo anche qualche centimetro in più che poteva essere utile sui calci piazzati perché loro buttavano palla in aria dalla metà campo quindi anche questa è una cosa che che è ottenuto in considerazione facendo questo cambio a dieci minuti dalla fine Francesco ha fatto bene ha fatto una buona partita ripeto adesso i giudizi i giudizi sicuramente sono un po' anche questo gol all'ultimo minuto rende tutto più amaro a mio avviso con un po' di lucidità si può dire che abbiamo fatto una buona partita ho chiesto ai ragazzi li ho visti molto giù negli spogliatori adesso quindi domani faremo allenamento proprio per per leccarci le ferite insieme non per punizione perché non vedo non vedo nulla da punire perché veramente i ragazzi hanno dato tutto e siamo stati veramente poco fortunati però tutti insieme si è deciso di togliere il giorno libero e ripeto stare insieme per superare questa amarezza tutti quanti i condizioni di Marino? Marino ha un'ecografia di controllo lunedì vediamo sicuramente ha un problema muscolare in una zona delicata in questi giorni valuteremo queste le parole di mister Trocini le commenteremo con Giancarlo Enrico e Gianfranco Mancino tra pochissima rientro dopo la pubblicità eccoci poco prima della pubblicità abbiamo sentito le parole di mister Trocini nel post partita tra Virtus Franca Villa e Vibonese ha aperto il tecnico dicendo non sono arrabbiato sono deluso mi sembra abbastanza comprensibile Giancarlo ebbene sì per tutto ciò che abbiamo detto prima effettivamente per un allenatore in quelle condizioni essere passato in vantaggio aver avuto altre occasioni per poter raddoppiare essere in comune un uomo di vantaggio probabilmente lui non si aspettava quel pareggio però che dire è l'allenatore e se ne assume la responsabilità anche di quei risultati nel bene e nel male quando le cose fanno bene è giusto dar merito e così come quando fanno male bisogna almeno quantomeno annotare questo tipo di cose però essendo lui un allenatore estremamente concreto essendo un allenatore che sa perfettamente che le cose del calcio come sono saprà motivare saprà parlarne di spogliatoie così come del resto anche la società certo prima si diceva a microfoni spenti che il calcio soprattutto in Serie C ma questo non credo perché poi a qualunque livello noi veniamo da un martedì di Champions League dove un Ajax ha dato una lezione di calcio a Real Madrid nel calcio può ormai succedere di tutto quindi può anche succedere che in un campo di una Lega Pro di Serie C di italiana un pareggio ci possa stare stiamo parlando di squadre certamente con tutto il rispetto e per la Bibonese e per la Visto Sancavita che sappiamo che tipo di campionato vogliono fare non vogliono puntare alla promozione ma mettendomi da parte dei tifosi è chiaro che i tifosi vogliono vedere ogni volta che c'è la possibilità di cogliere i tre punti in questo caso c'era poi ci può anche stare che verrà il Trapani o il Catania e vincerà ma poi in quei casi i tifosi ciò che chiedono è l'impegno la bella prestazione anche per tempo ma facendo una bella prestazione sappiamo perfettamente che i tifosi sanno apprezzare questo quando invece ciò non avviene perché magari si vede una partita anonima e per giunta con un risultato negativo è chiaro che poi la piazza resta un po' delusa Gianfranco non so se vuoi commentare la parola del tecnico anche due parole così veloce c'era da dire anche che era la prima domenica che faceva caldo pure ci poteva stare anche un po' di rallentamento fisico quanto riguarda il caldo però alla fine diciamo un pareggio va bene non è perché non sei una squadra che deve iniziare il campionato come ha detto Giancarlo poi c'è sempre un avversario le partite durano più di 90 minuti quindi il pareggio ci può pure stare secondo te Gianfranco era mareggiato anche per quello che è successo a fine partita magari qualche tifoso che magari non era contento o devono isolarsi da questa si devono isolare da certe cose non è voglio dire alla fine è stato un episodio fortunato per la Vibonese se no se quella palla veniva allontanata veniva gestita meglio sicuramente si stava parlando di altre cose adesso di tre punti che ripeto è l'obiettivo di salvarsi quanto prima io penso che questa squadra non avrà problemi vediamo adesso l'opinione del tecnico avversario mister Nevio Orlandi se era mareggiato Trocini dovrebbe almeno essere più tranquillo e contento nel post partita mister Orlandi Sì è un pochino tutto lì se vogliamo perché la cosa fondamentale era rimanere in partita fino alla fine cercare di essere propositivi pur essendo in dieci e quindi merito i ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine poi sotto l'aspetto diciamo lo tattico della partita è una partita diciamo anche abbastanza bloccata nella prima fase e poi costretti anche a dover recuperare un risultato chiaramente abbiamo cambiato anche atteggiamento e modo di stare in campo siamo passati dal primo minuto del secondo tempo a un 4-3-3 e quindi cercando di portare di spostare il baricentro più avanti ma soprattutto col palleggio anche se il campo purtroppo sia per noi che per loro in questo è molto sfavorevole però cercando col palleggio di portare dei palloni avanti per le nostre punte noi appunto per dover recuperare il risultato nella considerazione di essere in dieci dovevamo fare qualcosina di diverso abbiamo cercato di spingere sulle fasce con i terzini abbiamo proposto un centrocampo un po' anomalo perché avevamo due calciatori con caratteristiche diciamo offensive in pratica siamo passati a un 4-1 3-1 se vogliamo dare dei numeri però eravamo costretti ad essere sbilanciati con con i uomini che erano nel reparto offensivo e quindi anche richiedere a loro nella fase in cui non avevi la palla di rientrare soprattutto a fare densità al centrocampo per cercare di recuperarla e poi ripartire diciamo che questo atteggiamento ci ha premiato oggi e quindi è andata bene così merito ai ragazzi Quanto ha pesato l'assenza di Ovodo a centrocampo? Ovodo non era mai mancato perché oltretutto un calciatore era una prestanza fisica importante e diciamo contrapporsi contro questo tipo di Francavilla ci è mancato abbastanza però devo dire che Donna Rumma di suo ha messo geometria ha messo anche un discreto palleggio nella zona nervalgica del centrocampo quindi va dato merito di questo atteggiamento pur essendo un calciatore completamente diverso Allora mister Orlandi evidentemente sarà contento internamente perché è rimasto molto sulle sue molto tranquillo io però vorrei farvi sentire adesso le parole del DS della Vibonese lo schiavo che ha parlato in maniera molto piccata degli arbitraggi della formazione che ha incontrato la formazione calabrese in questa parte di campionato quindi sentiamo le parole del DS calabrese Allora il dottor ha fatto il momento di non volare gli eventi anche con il sottotitamento Sì una grande prestazione di carattere soprattutto dei ragazzi è successo varie volte come dicevo più anzi che la Vibonese fosse rimontata al 94esimo con la Juve Stabia penso al 96esimo con la Casertana al 94esimo abbiamo subito tantissimi gol nel finale di partita per una volta siamo noi che recuperiamo un match secondo me ben giocato a tutte le squadre peccato per quell'espulsione che ha condizionato l'andamento di una partita che era fin lì corretta un'espulsione che definire dubbio è un eufemismo perché secondo me in quel caso non c'era neanche il giallo è stata un'espulsione diretta questa questa no diciamo che Camilleri non era stato ammonito nel primo tempo quindi era stata sicuramente un'espulsione diretta per questo siamo rimasti basiti perché per un'espulsione diretta ci vuole come lo insegnate una condotta di gioco violento il ragazzo è andato con il bacino addosso al foro luncio ha fatto un fallo di gioco normalissimo che non era sanzionabile neanche la regolamenta neanche la munizione ci siamo ritrovati in dieci ed è dura quando tutti questi episodi arbitrali vengono condizionati vengono condizionati alle battite con queste decisioni a noi è successo Corrieti due espulsioni in casa a Reggio un arbitraggio veramente discutibile tante altre partite siamo stati penalizzati a Vibonese è l'unica squadra a cui non è stata fischiata ancora neanche un rigore quindi questo fa pensare della mancanza di rispetto che la classe arbitrale ci sta versando in questo periodo ma è un caso oppure hai pensato ci sia io credo sia un caso non c'è assolutamente volontarietà però caso dopo caso a fine anno voi mi insegnate che i risultati poi si acquisiscono e non si va a vedere la Vibonese con la partita la giocò in 9 la Vibonese con la partita la giocò in 10 i risultati sono quelli che contano alla fine dell'anno quindi non vogliamo essere penalizzati chiediamo rispetto perché sinceramente adesso gli episodi iniziano a essere troppi perché credo che stesse verificando un'eventuale posizione fuori gioco ma sarebbe stata una beffa se avesse annullato il gol perché era in posizione assolutamente regolare parte da dietro quindi era una posizione assolutamente regolare ripeto a me piace parlare di calcio non piace parlare di arbitri però sono costretto ogni domenica quasi a venire in conferenza stampa mi piacerebbe lasciare spazio e mi piace lasciare spazio all'allenatore ai ragazzi che hanno disputato una grande prestazione però se mi costringono queste decisioni dubbie sempre il nostro sfavore a venire in conferenza stampa e dover lamentare queste situazioni grazie a voi allora ovviamente non andiamo a sindacare tutte le ultime partite della Bibonese quelle che ha tirato in ballo il direttore lo schiavo ma ci limitiamo a commentare con Giancarlo che era allo stadio Fanuzzi l'episodio in questione e quindi l'espulsione si è lamentato insomma che un rosso diretto forse le è sembrato eccessivo per il direttore Sì devo dire che la situazione non l'abbiamo neanche tanto capita noi perché Presidente è stata un'azione quasi al limite dell'area della Bibonese una penetrazione di Folloruncio che è stato chiuso a sandwich da due e l'arbitro ha fischiato il fallo un pallo normale non c'è stato nessun problema probabilmente uno di questi due giocatori era proprio Camilleri che avvicinandosi all'arbitro insieme all'altro giocatore probabilmente avrà detto qualche cosa ma avevamo pensato ad una espulsione per ammunizione per doppia ammunizione perché abbiamo visto che l'arbitro ha fatto un doppio movimento di braccio ha tirato prima un cartellino poi quando invece abbiamo visto sui tabellini che non c'era un cartellino non era stato ammunito abbiamo capito che è stata un'espulsione diretta un'espulsione diretta un'espulsione diretta e allora a quel punto o avrà detto qualcosa di indicibile tale da spingere l'arbitro ad espellere immediatamente il giocatore o forse il fallo che a noi è sembrato un fallo del tutto normale magari avendolo visto di spalle non lo so si è entrato con le ginocchia non lo so però devo dire la verità dall'impressione che ho avuto anche a me è sembrata una essendo un'espulsione diretta mi è sembrata una cosa forse sovradimensionata però tant'è che ci sono state delle proteste ma neanche tanto proprio anche per questo dimostrazione il fatto che l'atteggiamento della Vimonese non era di quel tipo di squadra che spesso noi abbiamo visto in campo rognose dignose si ha protestato ci sono stati però dopo di che il giocatore si è girato e è uscito dal campo senza nessun grosso altro problema Gianfranco c'è da dire che però la Virtus Francavilla come spesso si conferma società elegante perché anche Biancazzurri non sono stati tanto fortunati negli ultimi episodi non so Giancarlo c'è stato anche un episodio dubbio in aria della Vimonese si poteva reclamare un rigore anche che magari poteva mettere al sicuro il risultato si però è una fase timide anche lì le proteste le proteste però diciamo secondo te è un'attenuante quella del direttore della Vimonese guarda lui ha fatto nome anche della della Juve Stadia la Juve Stadia in quella in quell'occasione fece una partita maiuscola che poi la palla non va dentro per i primi 90 minuti a recupero va dentro però non come diceva Giancarlo sicuramente il calciatore avrà detto qualcosa di offensivo nei confronti dell'albitro e l'albitro poi ha cambiato la sua idea ma è andato fuori voglio dire non sono le partite queste qua che un direttore sportivo o un presidente o qualcuno si debba lamentare perché alla fine per quello visto è stata una partita tranquilla senza sì forse forse quello forse quello mi viene da pensare perché all'inizio ho detto abbiamo pensato tutti forse che avesse sbagliato il cartellino o forse magari sul momento aveva intenzione di ammonire ma non ha dato il tempo di essere ammonito perché avendo detto qualche cosa allora ha detto no qui non è ammonizione ma espulsione quindi questa è l'unica soluzione l'unica logica conseguenza doveva avere un attimo di lucidità e stare zitto perché magari si beccava soltanto il giallo Andrea pure sentendo le parole dell'allenatore sinceramente non è che loro abbiano fatto una partita hanno fatto il pareggio su un episodio se no la partita finiva se non fosse stato un episodio favorevole a loro non è sinceramente quella che magari può recriminare sul risultato è la Virtus che ha creato molte occasioni da rete che poi la palla non è andata dentro va bene però la Virtus ha creato 2-3 occasioni chiare clamorose clamorose allora se siete d'accordo noi ci vediamo già la grafica del prossimo turno così ci proiettiamo anche analizzando le partite perché diranno già qualcosa il campionato ormai ci ha imparato insomma che da giornata a giornata non cambia mai tantissimo però è sempre bello stare lì a vedere a seguire ci sono tanti derby che a me piacciono tantissimo molto spesso in ogni giornata quindi questo è il quadro completo prima leggiamo e poi torniamo a fare il nostro classico gioco dei pronostici Paganese Reggina Rende Sicula Leonzio Siracusa Virtus Francavilla questo è un match sicuramente importante che seguiamo con attenzione Trapani Casertana altra partita interessantissima Monopoli Biceglie questo è un derby Potenza Rieti Catanzaro Catania altra partita importantissima e poi Juve Stabia Cavese ovviamente non vi cito e non vi leggo Fitervese Castrenze Matera Calcio perché l'esito come è scritto è già stato deciso per i noti problemi che interessano la formazione la formazione Lucano però noi non andate a giocarla perché non si giocherà questa partita alle scommesse ovviamente riposa la Vibonese allora tra queste Giancarlo Gianfranco quale partita al di là della Virtus Francavilla che è attesa da una trasferta in Sicilia che è sicuramente più complicata del previsto però quale partita vi interessa beh io penso quella del Catanzaro ripeto al netto di quella del Francavilla Catanzaro e e e e la non riesco a vedere perché purtroppo dimmi la squadra che ti aiuto io no perché vabbè la Paganese Regina mi sembra che sia una partita che abbia poco interesse poi c'è Rende Sicula Leonzio Siracusa Francavilla Trapani Casertana Monopoli Biceglie Potenza Riemi Trapani Casertana ecco quella che mi suggeriva sicuramente le partite le due partite sono queste qui poi immaginando che la Juve Stabia con la Cavese anche quello un derby campano e la Cavese mi sembra che sia in netta in netta ripresa però la Juve Stabia se non dovesse fare macelli e rasentare l'autolesionismo penso che sia destinata a portare in porto questo questo campionato certo che ora le partite diventano importanti e pesanti un po' per tutti perché in ogni partita c'è qualche cosa da giocarsi la Juve Stabia man mano che si avvicina all'obiettivo prefissato finale diventa sempre più c'è sempre più tensione c'è sempre più preoccupazione più derby intensi poi per la Juve Stabia viene dalla trasferta con la Casertana con la Cavese io non la sottovaluterei mai no infatti ma a parte il fatto che in questo campionato è difficile che si possa sottovalutare una partita però sono i classici i classici match ball cioè sono quelle partite che per contratto devi portare a casa se poi vuoi puntare alla promozione e presuppongo che la Juve Stabia ormai sta trovandosi in una condizione tale che non può certo giocarsi una promozione proprio per qualche punto mancato però questo può anche capitare perché è nella storia dello sport che spesso quando determinati risultati vengono quasi dati per scontato poi magari c'è la la leggerezza con la quale si affronta una partita o la la disattenzione o la poca concentrazione a fronte di un'altra squadra avversaria la squadra avversaria che invece è ben determinata a vendere cara la pelle quindi probabilmente la capese andrà a giocarsi la partita e la Juve Stabia dovrà stare estremamente dovrà essere estremamente e poi anche il monopoli monopoli biceglie conoscendo qual è la tensione e il campanile tra noi pugliesi io sempre ho detto mi ricordo che le partite più dure che affrontavamo quando noi eravamo in Serie D erano sempre più i derby ci diceva che i campi campani sono terribili poi invece si andava a giocare a Castellamare di Stabia e trovargli un ambiente Torre del Greco Torre del Greco ma quando si andava Bitonto Monopoli Barletta Bitonto magari ci seguono anche e li salutiamo però davvero erano partite sempre con massima tensione preoccupazione perché c'era un clima veramente molto più tese quindi presuppongo che Monopoli non venga meno a questa tradizione pugliese del campanile esagerato ci seguono sicuramente da queste città che hai citato e saranno contenti anche del bel complimento che le hai fatto in ogni caso io ricordo che anche a loro merito il fatto che prima di tutto il Monopoli ormai sono tanti anni che milita in campionati professionistici ha sempre avuto una tifoseria che ha sempre seguito la squadra al di là degli atti bassi purtroppo che hanno tutti ma anche il bicello stesso ormai ha trovato una sua dimensione e questo fa merito a loro e dispiace a me da tifoso brindisino mi piacerebbe vedere anche il brindisi partecipare a questi derby in maniera corretta piacevole sportiva Gianfranco non so se vuoi aggiungere qualcosa sulla giornata io cito due match cito al primo posto il derby barese perché sono due squadre che vengono da un ottimo momento specialmente il Biceglie dopo aver ottenuto una vittoria importante due parole forse sul Biceglie dobbiamo spenderle maggiormente non ce l'ha fatto Giancarlo però sappiamo no? sì sì no no è una squadra che viene da un momento importante dopo aver vinto contro una delle pretendenti a bici il campionato poi sinceramente io non mi fido della Paganese perché la Paganese è una squadra che è dura a morire poi vedendo la regina l'altro giorno in televisione sinceramente non è che è una partita facile perché poi lì c'è l'allenatore che è un carissimo amico mio della Paganese Fabio De Sanso che è un calabrese doc quindi ci sarebbe il derby diciamo così un derby nel derby darà diciamo lotterà parecchio per questa partita il resto diciamo sono partite sulla carta scontate tipo il derby come diceva Giancarlo Juve Stabia Cavese sinceramente giocare contro la Juve Stabia e presentarsi con un 4-3-3 non è facile purtroppo il modulo della Cavese e questo non non ci si cambia penso che sarà molto difficile per la Cavese vediamo se questo coraggio lo avrai anche nei pronostici tra poco certo proprio al massimo cortissimi così andiamo nei pronostici come vedete la partita della Virtus Franca Villa in trasferta dura cortissimo no io sinceramente ripeto potrebbe non voglio esprimermi per un dire un risultato però sei fiducioso sono molto fiducioso sinceramente mi dicevo se entrambi però fiducioso perché ci sono alcuni giocatori che si devono sbloccare spero che domenica è giunto il momento che si succede a partipilo non dovrebbe esserci perché è squalificato quindi questo è una senza anche se devo dire che un po' non è il partipilo inizio stagione ma speriamo ma poi abbiamo un Polo Ruscio in forma strepitosa che dà una garanzia importante per questo sguardo allora vediamo di nuovo la grafica e partiamo con i pronostici diciamo che non c'è evidente non c'è Fabrizio Caglianello quindi andiamo tutti tranquilli allora diciamo sicuro Giancarlo non diciamo così perché magari Fabrizio vede la puntata e comunque si così si dà delle aree nonostante non ci sia allora iniziamo da Gianfranco Paganese Regina Paganese Regina e mi dispiace per il mio amico Fabio De Sanso però due e si smentisce avevi detto partire lo so però purtroppo tu guardi alla sostanza vuoi vincere no è che voglio vincere vabbè ti devo essere sincero sto seguendo molto la Regina mi sta entusiasmando mi sta entusiasmando apprezzo il tuo coraggio mi sta entusiasmando la nuova società hanno presentato il nuovo pulma di un certo livello ambiente di serie A di serie A mi sta entusiasmando molto Rende Sicula Rende Sicula dopo aver ottenuto un grandissimo pareggio contro la Regina X Trapani-Casertana Trapani-Casertana è una bellissima partita io spero che vinca il Trapani così perde poi a Francavilla la domenica prima quindi uno Monopoli-Biceglie Monopoli-Biceglie X Potenza-Rieti Potenza mi piace tanto un bellissimo ambiente mi dispiace per il Rieti però vince il Potenza Catanzaro-Catania vi ricordo che avete sempre una doppia a disposizione Catanzaro-Catania il derby delle 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 pretendenti alla alla vittoria del campionato però non sta andando così metto uno due uno due un attimo questo è una segna che è difficile poi Juve-Stabia Cavese Juve-Stabia Cavese piace molto la Juve-Stabia la Cavese c'è quel gioco spregiudicato vedo una vittoria netta della Juve-Stabia perfetto Giancarlo Paganese-Regina due Rende sicura Leonzio uno Trapani-Casertana Trapani-Casertana uno Monopoli-Biceglie uno Potenza-Rieti X Catanzaro-Catania uno due Juve-Stabia Cavese uno e allora vado io Paganese-Regina X Rende Sicula-Leonzio uno Trapani-Casertana X Monopoli-Biceglie uno Potenza-Rieti uno Catanzaro-Catania uno X Juve-Stabia Cavese X E Nextremis allora abbiamo anche allora buonasera 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 dovresti parlare a favore di microfono ah sì non scusate ma oggi abbiamo fatto 3-4 trasmissioni sportive allora come va? tutto bene? benissimo è arrivato solo per le scommesse vi do i risultati definitivi ci siamo illusi Paganese-Regina due ok Rende che? ah Rende Rende Sicula due Trapani-Casertana e le leggo io Trapani-Casertana X2 Monopoli-Biceglie uno X Potenza-Rieti X se ce le dici magari siamo contenti Catania-Catanzaro uno Juve-Stabia-Cavese uno ciao a tutti e allora noi ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria ovviamente non so se avete già dato la notizia delle due gare del Francavilla di Siracusa-Francavilla domenica prossima si gioca a porte chiuse l'avete data? non l'abbiamo data bravi complimenti quindi meno male che sono arrivato io è che invece Francavilla-Trapani si giocherà di domenica alle 14.30 al Fanuzzi e sarà trasmesso in diretta da Sport Italia quindi queste sono due notizie importanti che riguardano la Virtus Francavilla grande fondamentale il tuo ingresso in trasmissione Andrea possiamo fare una domanda a Fabrizio? la possiamo fare nella seconda parte così ci fermiamo conservala tienila in caldo al rientro ascolteremo la domanda di Gianfranco poi ovviamente parleremo anche del campionato di eccellenza e quindi anche del Brindisi restate con noi eccoci ben ritrovati Maratona Caglianiello quest'oggi che sta intasando i canali di Studio Centro con tante trasmissioni ben ritrovati intasando è brutto proprio perché si riferisce ad altro solitamente quindi intasando è il peggior termine che potresti usare va bene ben ritrovato Fabrizio buonasera un saluto ancora buonasera Franco Mancino Giancarlo Enrico che insomma ci hanno fatto compagnia con il quale abbiamo parlato di Serie C e di Virtus Franca Villa adesso ci concentriamo sul campionato di eccellenza e sul Brindisi però Gianfranco aveva lasciato una domanda in sospesa per Fabrizio volevo chiedere a Fabrizio visto che viene da una trasmissione nella città Tarantina come hanno preso la notizia della vittoria del Picerno 3-0 contro il Gravini ma io penso sinceramente che se l'aspettassero io faccio una premessa secondo me il Taranto ha poche responsabilità in questo campionato perché ha fatto tutto quello che poteva fare cioè in qualsiasi altro torneo dopo una scia così lunga di risultati positivi saresti stato primo il problema è che hai davanti delle squadre che stanno battendo tutti i record possibili e immaginabili e quindi ci sta che una partita poi dopo 15 la perdi le altre non hanno fatto lo stesso e questa è la situazione è la stessa cosa che sta arrivando accade in Serie A dove non puoi rimproverare niente al Napoli perché c'è una squadra davanti che l'anno scorso il Napoli ha fatto il record di punti però comunque non ha vinto il campionato perché c'è uno davanti che ha fatto e la stessa cosa vale in eccellenza al Brindisi il Brindisi quest'anno ha 10 punti in più di quanti ne aveva la seconda di eccellenza lo scorso anno 10 punti in più quindi il Brindisi in qualsiasi degli ultimi 5-6 campionati di eccellenza con questi punti sarebbe straprimo e già promosso se il Casarano di turno o nel caso della Serie D il Picerno sta facendo un cammino del genere ti togli il cappello applauso stop per come la vedo io fermo restando che poi bisognerà vedere anche la faccenda degli stadi come il Picerno potrà giocare la Lega guarda ci hanno detto oggi voi sapete che il Picerno ha questa società fortissima che fa capo a Curcio lo zio d'America che è proprietario di mezzo a Picerno praticamente no? questo signore che se ne andò in America è una favola tanti anni fa da Picerno ha fatto fortuna è diventato arci miliardario ha fatto fortuna ha regalato però alla sua squadra di calcio mezzo paese perché l'ha costruito lui lo stadio che ha costruito lui e porta il suo nome è l'unico stadio in Italia intestato a una persona vivente e praticamente ha già fatto sapere che in due mesi costruisce uno stadio per la Serie C una settimana fa già hanno finito la curva che hanno passato da 500 a 1000 posti settore ospiti quindi secondo me quello non sarà un problema poi c'è un mio grandissimo amico Enzo Amitro che sta facendo un lavoro straordinario ricordiamo che è un ex guardialine di Serie A sta facendo un lavoro straordinario il direttore perché lì non è a che fare con la pubblica amministrazione non sei soggetto ai tempi della burocrazia e quindi schiavo di varie situazioni come la Virtus ad esempio lì c'è un privato proprietario dello stadio perché lo stadio è di proprietà praticamente del presidente della società e può fare che cavolo vuole in due giorni se ci riesce ti volevo chiedere giusto l'ultima cosa su Taranto ma tu pensi che l'addio al campionato l'abbia dato ad Andrea il Taranto? no 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 il Taranto secondo me non si può riproporare niente in questo torneo magari ha perso qualche punto di troppo nel gerone d'andata l'avvio è un po' stentato quella sconfitta ma secondo me più che ad esempio il pareggio di Andrea che è un risultato d'oro su quel campo è stata la sconfitta interna all'andata con l'Andrea che secondo me magari ha avuto un peso specifico però detto questo sinceramente sono sicuro che il Taranto potrà rientrare tra le squadre ripescare con il nuovo regolamento sugli impianti sportivi io ho detto una cosa ho la sensazione che sia stato fatto un abito su misura per le grandi piazze quindi Modena Taranto Avellino per far salire e far tornare le grandi piazze nel calcio eventualmente di questo chiaramente potrà beneficiare a mani larghe anche il Brindisi qualora non dovesse vincere il playoff bene hai nominato il Brindisi parliamo quindi del campionato di eccellenza vediamo i risultati che sono insomma arrivati nelle partite dell'ultimo turno per commentarli anche insieme il Brindisi che vince nei minuti di recupero grazie a Pignataro che è entrato da pochissimi minuti e vince 1-0 una partita tesissima con il Sansevero poi la Vetrana che perde in casa 4-1 con il Mesagno questo è un risultato importante per la formazione giallo-blu il Corato che vince 2-1 con l'Unione Calcio-Biceglia il Gallipoli che batte 2-0 la Molfetta sportiva Otranto Barletta 1-1 questo è un risultato importante perché consente a Brindisi di allungare ancora di due lunghezze sui Biancorossi poi il Casarano che vince in maniera larga a Trani per 4-1 il Vieste che vince 2-0 con il Terlitz e la Fortis Altamure che vince 1-0 a Molfetta contro il Molfetta Calcio vediamo anche la classifica così magari anche commentiamo i distacchi soprattutto in venta perché è inutile che ci prendiamo in giro a Brindisi siamo concentrati soprattutto su questo il Casarano 59 punti 7 punti sotto a 52 il Brindisi e poi 5 punti sotto il Barletta e poi l'Altamura a 42 vedete tutte le altre che si stanno contendendo un posto nell'eventuale griglia pre-off ovviamente questo è quello che non si augurano i tifosi biancazzurri perché ricordiamo c'è la possibilità che non si giochino proprio giochino proprio i pre-off interni nel girone pugliese se il Brindisi dovesse avere al termine della stagione 7 punti di vantaggio sulla terza quindi sul Barletta in questo momento vi do un altro elemento di discussione visto come sta l'Altamura che secondo me ha fatto un mercato di preparazione clamoroso la corsa per il secondo posto è 3 perché secondo me l'Altamura può inserirsi restiamo sulla classifica grazie al nostro Dario Spagnolo così magari diamo anche l'opportunità ai nostri ospiti di intervenire sull'argomento vedete 42 per l'Altamura 5 punti sotto il Barletta secondo voi può inserirsi anche nella lotta per il terzo o addirittura anche per il secondo posto come diceva Fabrizio nonostante 10 punti di distacco il secondo posto mi sembra esagerato 10 punti se non vedo male 42-52 mi sembra esagerato probabilmente potrebbe anche perché quindi si deve giocare sia col Barletto che con l'Altamura l'Altamura deve giocare sia col Barletto che col Brizio anche perché dove dovesse perdere punti qualcuno ne guadagna altro e di conseguenza in quel caso forse non è la condizione migliore diverso sarebbe se l'Altamura avesse un calendario l'Altamura è a 45 non a 42 perfetto è sbagliata la grafica è a 45 quindi sono 7 punti comunque cioè in caso di risalita dell'Altamura dovrebbe concidere anche con un corollo clamoroso a questo punto perché l'Altamura deve giocare sia col Brindisi che con il Barletta a questo punto se sono 7 punti e possono essere con i Cuciti magari anche uno sguardo all'inzio una cosa è certa che da domenica scorsa il Brindisi è padrone del suo destino non deve dare retta a nessuno se le vince tutte se il Brindisi le vince tutte va direttamente la fase nazionale della Serie D c'è un pezzo di Serie D in tasca se il Brindisi le vince tutte quindi è padrone del suo destino questa è la prima cosa importante perché ricordiamo perché il Brindisi ha il match point alla penultima giornata in casa contro il Barletta in quel caso ovviamente vincendole tutte automaticamente avresti più di 7 punti quindi questo è un po' quello che è maturato insomma sul però vince le tutte scusami se ti interrompo significa dover vincere anche a Casarano è la cosa beh a Casarano ci può stare perché se a Casarano ormai ha vinto già il campionato ma comunque ricordiamo che il Brindisi andrà a Casarano la terza ultima giornata poi non ci dimentichiamo che la partita dell'andata del Brindisi il Brindisi ha dimostrato di essere una squadra quasi allo stesso livello ma io sono del parere che il Brindisi sta facendo un piccolo miracolo sportivo perché il Brindisi a occhio anche se comunque ha speso però secondo me ha speso molto meno vabbè del Casarano non ne parliamo proprio c'è un abisso cioè è clamoroso che il campionato sia ancora aperto però comunque sulla carta sulla carta per quanto possa contare alla vigilia Forti Saltamura Molfetta Calcio e lo stesso Corato erano più forti del Brindisi sulla carta quindi Brindisi ha fatto 16 vittorie vediamo se è una cosa allucinante fino a questo momento o no Giancarlo secondo me sta facendo un campionato pazzesco sì sta facendo un campionato importante e non preventivabile nel senso che all'inizio come dici tu poteva essere una squadra che poteva rappresentare la sorpresa ma non situarsi stabilmente al secondo posto come del resto poi per gran parte del campionato l'ha fatto cioè forse la prima fase fu un po' di assestamento poi una volta che riuscita a trovare a sistemarsi anche da un punto di vista di guida tecnica perché lì c'è stato anche quel problema la squadra sta rispondendo e c'è da dire che al di là di qualche battuta dal resto la squadra ha sempre anche giocato bene e divertito certo quante volte abbiamo discorso tra di noi come mai il Brindisi spesso si è riuscito a vincere partite recuperandole e spendendo un sacco di energie mentali e fisiche questa è stata l'unica nota anche l'ultima giornata diciamo conferma questa sono state tutte partite riuscite portate a casa grazie a questa determinazione a questo modo di non arrendersi di non dare mai per sfontato certo magari la disattenzione difensiva ha portato ad andare in svantaggio però ha avuto quella determinazione quella capacità di crederci che poi ha permesso di ribaltare i risultati quindi grande grande risultato e soprattutto e soprattutto c'è da dire dare anche grosso merito a Pignataro che domenica per domenica anche giocando spiccioli di partita poi riesce a essere determinante però per essere completi Fabrizio aveva ragione sono 16 vittorie del Brindisi 4 pareggi e 5 le sconfitte stiamo parlando di un campionato pazzesco il Casarani invece quante partite ha vinto ne ha vinte 2 in più se non ricordo male perché ho tolto ne ha vinte sì 18 5 pareggi e 2 sconfitte quindi questa è la differenza 2 vittorie in più e un pareggio in più e 3 sconfitte in meno ovviamente questa è la differenza attualmente al di là poi dello sconto diretto insomma che sappiamo ha un po' pregiudicato quello che è stato il cammino cioè la differenza sta sostanzialmente in quello ma io ripeto chi vive il calcio e vede queste situazioni vuol dire che veramente quando non hai un potenziale straordinario ma ottieni risultati così vuol dire che si è stati bravi tutti dal club dalla società a perché la società secondo me ha fatto un intervento e fu contestata non dimentichiamo a gamba tesa nel mercato di riparazione violentissimo cioè ha ripulito lo spogliatoio ha fatto un mercato in uscita importantissimo con perché mi dicevano che addirittura a un certo punto si era arrivati a 30 e passa tesserati e lì ha dimostrato di avere il pugno duro e lo stesso Olivieri è stata una scommessa fino ad ora vinta Pignataro è stata una scommessa vinta non ci credeva nessuno parliamoci chiaramente Fabrizio come dicevi tu questo è un risultato veramente importante dove una società è partita con una certa ambizione poi in corsa ha dovuto cambiare l'allenatore poi è subentrato il nuovo allenatore poi hanno fatto un mercato veramente importante quindi è un ottimo risultato quello che hanno che stanno ottenendo ieri sono stato col procuratore di un giocatore importante del Brindisi che mi diceva diceva Fabrizio la società è stata bravissima a motivare i giocatori in particolare mi ha raccontato forse abbiamo in telefono si lo ringraziamo e salutiamo l'ingegnere Umberto Mangone ministro unico del Brindisi ben ritrovato ingegnere buonasera a voi tutti bene ecco no mi diceva ieri ingegnere ben ritrovato mi diceva ieri un procuratore che lei sta ogni sera a volte anche a incalzare a mandare messaggini motivazionali no si dice così ad alcuni giocatori ci ha fatto anche delle ogni giorno ogni giorno per questo il segreto ogni giorno spero ti do fiducia perché ognuno di loro è capace di dare veramente hanno dimostrato di essere un gruppo e anche forte direi perché non togliendo nulla a Casarano con le altre squadre noi stiamo facendo veramente un bel campionato un campionato di vertice un campionato che nessuno si aspettava e questo è solo merito del giocatore dell'allenatore e dello stesso ha avuto un po' di paura però sabato scorso? no no ormai Pignatano abbiamo e lui un feeling serale dove gli ho detto si deve deve arrivare a 25 gol poi lo inviterò a mangiare una pizza a Salerno va bene lui è famiglia va bene va bene non vi allargate va bene allora domande per il presidente se volete dagli ospiti Giancarlo io mi trovo sempre a ribadire sempre il concetto cioè io sono sincero all'inizio avevo delle 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 giustificarmi deve comprendermi io da Brindisino insieme a Fabrizio abbiamo vissuto tante brutte storie che davvero ci hanno ci hanno toccato l'intimo e quindi sapere che un dirigente che da fuori si prende a cuore questa società e questa squadra è sempre un punto di domanda allora a questo punto invece ora colgo l'occasione questa occasione che mi è data dalla partecipazione in questa commissione per dire che davvero apprezzo molto il fatto che lei sia abbia preso a cuore questo progetto e che abbia la volontà di volerlo portare avanti in maniera seria perché io ho sempre detto i campionati si possono anche non vincere ma se si lavora bene non il primo non il secondo ma prima o poi il risultato viene e viene con delle radici ben più piantate per terra che permettono di poter programmare ancora meglio il futuro un futuro dotatore perché noi di questo abbiamo bisogno abbiamo bisogno di una squadra che non faccia un campionato e sparisca che ne faccia due e scompaia abbiamo bisogno di avere il calcio a Brindisi come tante piazze lo hanno da tanti anni io le faccio e con questo chiudo mi capita spesso di vedere le trasmissioni storiche sportive del calcio sul Rai Sport è una cosa che mi ha sempre colpito che in qualunque anno si vada a vedere quelle trasmissioni si vedono schedine e partite dove ci sono Foggia Bari Taranto Lecce e il Brindisi non si riesce mai a vedere allora dico mi piacerebbe una svolta riuscire a vedere nuovamente il Brindisi in serie C in serie D in serie C stabilmente per la soddisfazione e della dirigenza ma di una piazza che ha tanto voglia di calcio era soltanto questo non una domanda ma una riflessione se poi vuol dire la sua mi fa piacere no no io quando sono andato a Potenza dove c'era un disastro sulle carte partefiscale ha preso una squadra per i capelli ad agosto le prime cose disse non mi chiedete di vincere i campionati io vi dico che in tre anni il Potenza andrà in serie C al terzo anno quando ahimè non ci sono stati per tanti motivi il Potenza è andato in serie C e ho detto come ho detto agli amici il Brindisi in tre anni andrà sicuramente in serie C se le cose le facciamo nel giusto modo e con l'apporto dell'intera città perché la carta vincente è la stessa città che si deve credere io ci posso credere come come amministratore come come dirigente come socio perché se no non vedo neppure il motivo che io scenda a Brindisi io ormai ci credo in questa in questa strada ma il primo il primo a crederci devono essere il cittadino Brindisino un'amministrazione che ci deve essere vicina ci deve dare un campo alla quale noi possiamo giocare che attualmente il campo non ci dà la possibilità effettivamente di dare proprio di far sviluppare il nostro gioco che il nostro abbiamo giocatori veramente che sono tecnici sono bravi e devono ogni domenica fare la guerra anche contro al campo cioè contro tutti e voi lo vedete i nostri al novantesimo corrono le altre squadre non corrono quindi significa che i nostri veramente ce la stanno mettendo tutti gradirei anche lo stesso la stessa città di Brindisi scendere in campo insieme ai giocatori questo è perché nelle ultime cinque partite ci ci giocheremo un futuro del Brindisi calcio so che qualche giorno fa avete incontrato il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi sì sì personalmente sono andato a trovare l'amministrazione la persona del sindaco perché abbiamo bisogno di una struttura efficiente una struttura dove ho problemi con la biglietteria ho problemi con il campo con ci sono varie situazioni che il sindaco anche l'amministrazione ha detto cercherà di darci una mano perché se capitasse quello che deve capitare andare in Serie D non ci possiamo presentare in questo modo a un campionato di Serie D che è tutt'altra cosa Gianfranco Buonasera Ingegnere volevo farle complimenti conoscendoli dai tempi del Potenza si aspettava diciamo un campionato così importante come primo anno A dire la verità a dire la verità pensavo di fare un campionato di vertice ma non una seconda posizione non mi aspettavo neppure che Casarano facesse questo tipo di campionato perché sono cinque anni mi ricordo che tre anni fa quando sono a Potenza gli demmo anche un nostro giocatore il brasiliano Cedà andò a Casarano erano entusiasti ma sono cinque anni che Casarano sta cercando di salire noi invece darsi che ci possiamo riuscire in un solo anno grazie anche io devo dire a Carbonella a Nicola Dionisi perché Nicola quando possa essere un esperto di campionati in eccellenza pugliese non c'era mai stato oggi posso dire che Nicola ha iniziato a conoscere anche il campionato di eccellenza pugliese che rispetto agli altri sono proprio diversi Nicola conosce quelle di Lavellino della Basilicata che sono più vicine a noi ma il nostro campionato è veramente un campionato forte e forse penso quando ha una serie di tra l'altro volevo dare un'altra notizia Dionisi ormai da settimane è in giro per l'Italia per visionare anche oggi per visionare tutte le squadre di eccellenza degli altri gironi in vista di eventuali playoff nazionali anche oggi andrò a vedere un'altra partita ogni settimana ogni sabato e domenica stanno a vedere tutte le eccellenze degli altri giorni quando giochiamo quando sì quando addirittura quando giochiamo il sabato Nicola va a vedere le serie D già visionari probabili i giocatori se un futuro sarebbe in serie D è un ragazzo attento è un ragazzo che ci tiene e anche lui ci tiene molto per il Brindisi e vuole fare cose grandi per lui a Brindisi se ci sarà un giusto una cosa visto che prima faceva un appello all'amministrazione essere vicino alla squadra e alla città penso che gradirebbe anche una maggiore presenza e un rinfoltimento della compagine societaria qualche imprenditore che si avvicinasse alla società per dare forza e maggior solidità noi stiamo cercando di fare una ricapitalizzazione della società proprio per dare la forza a una società che si rispetta una società che non possa traballare in futuro perché fare una serie D pur a Brindisi faremo una serie D nell'eventualità di passaggio ma bensì sempre una 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 squadra che sia tra le prime posizioni e quindi allargare la società sarebbe anche opportuno io capisco pure le persone di Brindisi che ci sono stati troppi fallimenti perché sempre perché la gestione non è mai stata oculata io dico noi dobbiamo fare il passo che possiamo portare avanti non allungarci qualcuno a novembre ci ha chiesto di rinfostarci di fare questo di fare quell'altro io dico invece i passi devono essere oculati devono essere fatti regole d'arte abbiamo avuto la fortuna che i giocatori se ne sono fatti male pochi che io capisco che un direttore sportivo vuole 20 o l'allenatore vuole 20 giocatori ma io dico 20 giocatori in questo momento non sono alla nostra portata io sono sempre chiaro in quello che faccio poi forse sarà stata anche una una mia mancanza ma quando i giocatori sono pagati quando tutto viene rispettato secondo i programmi la squadra anzi dà una spinta in più quando non si pagano i giocatori si hanno iniziato ad avere delle crisi Presidente è stato perfetto va bene abbiamo chiarito tutti gli aspetti voi sapete come la penso quindi questo è uno dei miei forse è un mio male è un mio neo perché sono sempre chiaro nel dire le cose poi c'è chi l'accetta e chi non l'accetta è molto meglio è assolutamente molto meglio in bocca al lupo grazie grazie mi raccomando domenica siamo tutti presenti a Morbet alle 18 che possa essere una partita facile saranno le ultime 5 partite più importanti del campionato perfetto grazie ancora Presidente buon lavoro grazie allora fermiamoci un attimo con pubblicità e poi dopo magari commentiamo insieme allora commenti rispetto a quello che ha detto Vangone che ha toccato diversi temi dal punto di vista tecnico societario la ricapitalizzazione imminente poi giustamente secondo me la cosa più importante di tutto questo è il fatto che non si debba fare il passo più lungo della gamba mai in nessun caso allora chi vuole iniziare Giancarlo Gianfranco chi volete dai fate a tocco è un aprire un portone già spalancato nel senso che tu lo sai in tanti anni quante volte abbiamo parlato abbiamo discusso di queste cose qua quindi mi trovo assolutamente d'accordo e sono ben contento che il Presidente lo ribadisca così come io spesso lo richiedo perché abbiamo bisogno di più che di nomi altisonanti di progetti faraonici sulla carta abbiamo bisogno di realtà di concretezza quindi se mi auguro che sia così la gestione della squadra sia sempre improntata su questa serie data su questa chiarezza certo si può sempre migliorare si può migliorare nelle persone si può migliorare nei progetti si può migliorare nelle idee nelle cose da fare ma l'importante è che ci sia la buona volontà e la predisposizione a capire quali sono i punti cardine sul quale costruire qualcosa e sentire l'ingegnere Vangone da questo punto di vista penso che sia inappuntabile e non attaccabile da nessuna posizione in più c'è la squadra che sta dando soddisfazione il merito e quindi come si dice si sta si sta ballando e continua a ballare nel senso che c'è da crederci e non sapendo quello che succederà quest'estate di vari stravolgimenti al di là del fatto che si possano fare i playoff vincerli o meno noi veramente l'anno prossimo potremo essere presenti in questa trasmissione discutere e parlare di derby in serie D incrociamo le dita e facciamo tutti gli scongiuri e crediamoci intanto pensiamo a domenica che sarà una partita delicata vediamo anche gli highlights se possibile mentre parliamo di Brindisi Sansevero Gianfranco le dichiarazioni che ha detto il presidente danno molta fiducia in proiezione futura la società si sta già muovendo sinceramente se qualche imprenditore si avvicinasse alla squadra non farebbe male voglio dire perché questa società diciamo come primo anno ha fatto veramente un risultato importantissimo diciamo se riusciamo poi a capitalizzare diciamo il discorso dei playoff e vincerli è un risultato importantissimo devo dare due notizie sull'eccellenza la prima che oggi si è giocata la seconda giornata della Coppa Italia nazionale il Casarano ha vinto facile sul campo del Grumentum 2 a 0 ha vinto l'ha chiusa nel primo tempo forse Fabri un po' di rammarico c'è in questa competizione da parte del Brindisi la Coppa Italia e sono d'accordo con te e io sono convinto che quel turno doppio turno con l'Alta Mura il Brindisi non l'abbia perso sul campo ma fu figlio di alcune fibrillazioni ti ricordi che ci furono inizialmente è arrivata nel momento peggiore del Brindisi quel doppio turno c'erano anche qualche infortuno il Brindisi gioca un po' il maneggiano che poi Fabri la società voleva fortemente questa competizione non è si è proprio dichiarata non è si si e poi un'altra notizia invece avete non so se avete seguito la settimana scorsa la polemica Molfetta Calcio contro Fortis Altamura Altamura ha vinto 1 a 0 Molfetta Calcio ha presentato ricorso che andò alla ripetizione della partita ha fatto un comunicato devastante contro il comitato regionale chiedendo le dimissioni di Tisci dicendo testualmente sto ripetendo quello che ha detto il Molfetta Calcio che questo comitato regionale così come è formato da troppo tempo è al comando e c'era bisogno di rinnovare il comitato regionale Puglia oggi ha emesso un duro comunicato stampa ha preso atto di alcune dichiarazioni pubbliche rilasciate dai dirigenti tesserati con la società SD Molfetta Calcio che ledono l'immagine della classe arbitrale degli organi federali regionali in dato a di erne il presidente del comitato regionale Puglia Vito Tisci ha inviato pertanto alla procura federale della federazione italiana gioco calcio un fascicolo contenente tutta la documentazione originale corredata da una segnalazione di una società affiliata e resta in attesa delle determinazioni del caso tra l'altro va detto che il Molfetta Calcio è una delle società in questo momento più motivate almeno stando alle dichiarazioni perché il presidente ha detto anche se non dobbiamo fare tutto per arrivare nei playoff ha detto anche se non arriviamo nei playoff sono quasi certo di fare la serie D perché ci saranno ripescaggi Complimenti strategicamente ha scelto poi un momento migliore per fare queste dichiarazioni vediamo anche intanto le immagini chiedo a Dario in regia Dario Spagnolo così magari arriviamo subito al momento clu perché la partita però io vi chiedo sì c'è proprio un film Pignataro che si riscalda prima della partita tutta la se è stata l'Inter avrebbe fatto un film su questa cosa come fece il film famoso su QR recupero Gianfranco ti ricordi non mi ricordo in casa 3 a 2 negli ultimi minuti fecero proprio un VHS a parte e potrebbe essere potrebbe essere anche la stessa cosa Pignataro che si riscalda invocato dal pubblico prima della gara perché doveva giocare tutta la settimana test clinici staff medico per cercare di recuperarlo ok la domenica mattina gioca si riscalda o male non può giocare va in panchina stravolge la formazione all'ultimo istante a un certo punto io lo vedo parla col mister gli dice mister me la sento fammi entrare il mister aveva calcolato di fargli giocare comunque gli ultimi 10 minuti tocca il primo pallone e il portiere fa quel miracolo straordinario cioè è un momento in cui sente la porta sente proprio il profumo il secondo pallone che tocca segna quel gol al novantatresimo pazzesco cioè veramente questa è l'occasione di Marino una favola no Gianfranco poi questo è proprio il segno guardate guardate Iaia alza una palla fantastica dentro e lui in questo momento è freddissimo controllo di destra e tiro di sinistra e poi Fabrizio sinceramente grazie alla vostra redazione che ho visto tutta l'immagine ma ha tirato una volta il San 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 no è stato un assedio è chiaro che è stato un assedio però come altre volte non ha segnato veramente un peccato sarebbe stato voglio dire vedendo le immagini che avete messo voi in onda 19 gol in campionato 2 in Coppa Italia ricordiamo che ha saltato se non erro 3 o 4 partite in campionato quindi ha una media paurosa veramente paurosa io ho come la sensazione poi che abbia beneficiato molto dell'arrivo di Acosta lui sarà un uomo mercato tra le eccellenze ma speriamo che possano rimanere magari in un campionato di categoria superiore con la maglia bianca azzurra è stato bello poi Fabrizio tra poco vediamo anche l'immagine per me per le qualità che ha Pignataro la D la fa con la sigaretta in buro Fabrizio se le voci sono giuste questo è un calciatore voluto fortemente da Carbonella è stato Carbonella ci ha creduto più di ogni altro va fatto un applauso a Enzo Carbonella che ha voluto veramente fortemente guarda io ho assistito a dei siparietti quest'estate visto che ci stiamo raccontando un po' di cose dove c'erano delle perplessità chiaramente nel ingaggiare Pignataro ma no perché non è forte sappiamo tutti che era fortissimo però è stato sei mesi fermo l'anno scorso perché veniva da Casarano una situazione particolare Vangone disse a Carbonella disse allora mi fido di te e ti assumi tu la responsabilità ha avuto ragione da uomo di calcio il direttore generale stavo dicendo le immagini non le abbiamo viste fino in fondo però è stato bello assistere a quell'esplosione da quant'è che non vedevamo un boato così grande al Fanuzzi dobbiamo dirlo anche in tribuna stampa noi abbiamo capito poco dopo il gol perché abbiamo esultato anche noi da tifosi del Brindisi quindi insomma è stato un bel momento come diceva Fabrizio vissuto come un film come l'apoteosi è stata la rete di Pignataro e poi non si è capito praticamente più nulla fortunatamente poi gli ultimi minuti ecco forse se vogliamo il difetto di questa squadra Giancarlo e Gianfranco quanto in questo momento è Pignataro dipendente? beh ma questo lo dicevamo già in fase di mercato di riparazione quando c'è stata quella è brutto usare questo termine però rende il concetto ci fu una specie di pulizia di smembramento di ruoli di ruoli un po' chiariti all'interno dello sfogliatoio con alcuni giocatori che sono stati ceduti venduti o lasciati liberi per anche massimizzare al meglio quelle che erano le risorse che invece venivano tenute all'interno della squadra e noi abbiamo sempre notato e forse questo è un problema tra virgolette che resta del fatto che quante volte abbiamo detto che le alternative non sono tantissime all'interno della squadra però se questa squadra anche non avendo grosse alternative come cambi come possibilità di poter gestire le varie vicissitudini che ci sono durante il campionato e durante le partite è pur vero che ha tanta energia e ha tante risorse emotive tali da portare spesso questi risultati della vittoria del 94esimo il recupero incredibile di tante partite anche quello con il messagno che è arrivato nel primo minuto esatto quindi questa è una caratteristica 9 recuperi 10 così come sono d'accordo su quello che dicevi tu che a Costa che abbiamo sempre detto che ci farebbe piacere che facesse qualche gol in più e ora sembra che insomma qualcosa si sta avvicinando di più alla porta si sta avvicinando però è importante il suo ruolo proprio perché crea grazie al suo gioco di sponda al suo far salire la squadra al suo dialogare con il compagno di reparto crea molto più spazio e di questo ne sta beneficiando però non togli che ne va anche il merito poi una cosa ora voglio dire perché volevo dirla prima sull'intervento dell'ingegnere ha fatto un richiamo all'amministrazione a questo punto io che ho sempre amato gli stati i prati in erba forse è il caso che abbiamo no no hanno chiesto si faccia un prato un manto sintetico perché forse non se ne può più so che è stato chiesto ufficialmente il manto sintetico forse come città non siamo proprio in grado di mantenere un manto naturale non so se è una questione perché certamente un prato naturale va curato secondo regole ben precise con personale ma credo non perché adesso non ci sia la manutenzione perché purtroppo viene da anni in cui magari non è stato però è anche vero che secondo me non è recuperabile è strano che questo il prato del Panuzzi da decenni da vent'anni presenta o è un terreno proprio non compacente o è una zona che non permette non lo so io vi dico che però non so se può essere un elemento di paragone non già ho capito cosa vuole io abito accanto allo stadio e non riesco a far prendere il giardino è demerito tuo ho provato tre giardini diversi poi ho provato da solo abito proprio vicino allo stadio e il prato non prende non so se è l'aria prova il sintetico a casa tua ma infatti molti lo hanno fatto il parcheggio è stato cementato è stato bidumato bene mi dispiace interrompere questa parentesi da pollici vero parlavamo che si chiedeva se il brinzi fosse Pignataro o no dipendente in questo periodo della stagione Pignataro si è fortissimo però tu come ben sottolineato in questo periodo abbiamo un grandissimo Marino che sta facendo un campionato bravo 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 strepitoso proprio ad altissimi livelli proprio spettacolare ma infatti Marino è stato il capitano e il leader del Francavilla in sinni più bello di serie D che ha sfiorato anche la promozione in serie C lui è uno che la C la potrebbe fare tranquillamente con le qualità che ha ha fatto una scelta di vita è chiaro che secondo me è il giocatore forse più importante di questa squadra insieme a tanti altri che sono fondamentali perché c'è un'ottima base eventualmente per costruire mi dispiace essere il cattivo della situazione ma dobbiamo chiudere abbiamo già sforato di tre minuti quindi non so se facciamo senza leggere a mandare in onda il prossimo turno giusto per dare uno sguardo nel prossimo campionato di eccellenze il prossimo turno del campionato di eccellenze e poi magari possiamo anche chiudere vediamo se il nostro Dario riesce a darcelo in chiusura prendiamo tempo allora che ti aspetti alla prossima partita guardate questa è un'altra cosa importante perché domenica sarà una partita secondo me secondo me domenica sarà una partita delicata contrariamente a quello che può dire la classifica il Casarano gioca in casa con il Vieste mentre il Barletta gioca in casa con il Gallipoli abbiamo detto le partite delle prime tre diciamo anche quella della Forti Saltamura che ovviamente è una partita facile sulla carta ovviamente contro la Vetrana bene siamo in chiusura grazie al nostro Gianfranco Mancino è stato un piacere averti con noi è stato un piacere anche avere Giancarlo Enrico grazie a voi scusate ancora per il ritardo purtroppo oggi mi sono toccate Fabrizio non merita ringraziamenti per il padrone di casa e quindi lui che deve ringraziare noi grazie a voi grazie a Dero Spagnolo che ha curato la parte tecnica noi ci rivediamo mercoledì prossimo ovviamente con Fabrizio Caglianiello in conduzione dall'inizio alla fine sarà una trasmissione probabilmente migliore ciao a tutti domenica seguite Studio 100 perché seguiremo chiaramente sia Siracusa Francavilla che si gioca a porte chiuse e poi saremo chiaramente a Molfetta per questo posticipo del campionato di eccellenza per Molfetta sportiva Brindisi buonanotte